Fazio è stata una partita praticamente a senso unico, avete avuto una marea di occasioni da gol diciamo che anche prima dell'inizio della partita era fuori discussione la qualificazione alla finale Ma no, comunque era una partita aperta perché con il risultato di 2-0 dell'andata bastava un gol loro per poterla riaprire e devo dire che loro sono partiti molto forti in un certo senso ce l'aspettavamo anche, però siamo stati bravi a contenere e poi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto già dal primo tempo Hai fatto davvero un gran gol su una ribattuta della difesa del sesto campano l'hai colpita benissimo con il destro, però abbiamo visto che ci provavi già da qualche minuto Ma sì, comunque il tiro da fuori lo tento spesso a volte va bene, a volte va male, comunque l'intenzione di prendere la porta c'è sempre oggi è andata bene, buon per me e per la squadra Adesso si va a Roseto in campionato, che partita vi aspettate su un campo non molisano? La partita difficilissima, noi già all'andata abbiamo avuto dei problemi con questa squadra in casa corrono tanto, poi squadra giovane, ci mise in difficoltà però noi andremo a giocare come al solito la nostra partita cercheremo di vincere anche quest'altra e rispettando l'avversario perché rispettiamo tutto abbiamo visto che molte partite le abbiamo vinte soltanto negli ultimi minuti e quindi ci prepariamo bene perché sappiamo che non sarà facile Ti chiedo se tatticamente ti manca Pignataro non perché gli altri non si stiano disimpegnando bene ma perché volevo sapere appunto ti manca lui che si era inserito davvero alla perfezione con i tempi giusti nello scacchiere tattico del tecnico Farina? Ma ognuno ha le sue qualità, le sue caratteristiche però noi siamo un gruppo veramente competitivo l'assenza di Gerardo ma come quella di Antonello con Radino sono assenze importanti, assenze che pesano perché sono dei giocatori con delle caratteristiche e delle qualità che magari altri, compreso me, non abbiamo o non hanno quindi l'assenza si sente però comunque riusciamo sempre a colmare queste lacune proprio in virtù del fatto che abbiamo un organico molto molto competitivo e chi gioca gioca riesce a dare un contributo sostanziale alla squadra Matteo Aniello, buono l'esordio con la maglia del Campobasso direi con una buona personalità Sì, primo esordio con la maglia del Campobasso molto emozionato e ho cercato di dare subito il meglio per la squadra È stato un po' improvvisato tra virgolette perché non ha avuto un buon impatto palazzo e si è dovuto entrare praticamente dopo 14 minuti Sì, sono entrato verso i primi minuti della partita cercando di entrare in atmosfera un po' a freddo però ho cercato di dare sempre il meglio È un sogno che si realizza questo acquisto del Campobasso questo salto di categoria dalle Agli al Campobasso per te? Più che un sogno ringrazio la società per avermi dato la possibilità di salire di categoria e sono molto contento di far parte di questo gruppo e cercherò di dare il meglio Vediamo che sei un terzino che non difende solo ma spinge anche quindi corrisponde alle caratteristiche che vuole Farina? Sì, penso di sì Sono molto offensivo ma anche difensivo però dipende sempre dalla fase Esatto, dalla fase di possesso o non possesso Grazie a tutti